L'ex magistrato Antonio Ingroia a Campobasso per sostenere la candidatura alla presidenza della regione di Emilio Izzo con la lista Io non voto i soliti noti. Una presenza alla sua per ribadire la necessità di garantire il rispetto delle regole, in particolare della Costituzione che ha detto viene sistematicamente oltreggiata. Una lista, una candidatura alternativa qui in Molise? Sì, è l'idea che lanciamo a partire dal Molise, un progetto politico che se avrà successo, come sono convinto avrà successo in Molise, può diventare un progetto politico nazionale. Una lista soprattutto civica, una lista fuori dagli schieramenti, contro il centro-sinistra e contro il centro-destra nel nome della Costituzione, dell'onestà e della parte dei cittadini. Di cosa c'è bisogno qui in Molise secondo lei? Beh, c'è bisogno di pulizia innanzitutto. Io credo che occorrebbe un'autentica campagna di moralizzazione con tutti gli imbrogli che si sono fatti, tutte le ruberie, soprattutto nel settore della sanità, sulle spalle e a prezzo della salute dei cittadini. Le ha fatto spesso riferimento alle lobby. Secondo lei sono presenti anche qui in regione? Assolutamente sì. Oramai le lobby governano l'Italia e governano ogni regione d'Italia, con presenze mafiose o paramafiose diverse, a seconda delle zone d'Italia, ma io credo che in Molise qualcosa di simile ci sia anche. Ecco, il candidato Emilio Izzi è stato sempre in prima linea, si è spesso incatenato a protestare, quindi che cosa si sente di dirgli in questa campagna elettorale? Il candidato Emilio, che apprezzo il suo coraggio di prima e il suo coraggio di oggi, nella quale si candida il candidato presidente nel nome della giustizia, perché si possono prendere anche iniziative clamorose, apparentemente diciamo contro la legalità istituzionale, ma l'importante è che si faccia il nome di principi giusti nel nome della giustizia e di una Costituzione che spesso è stata sfregiata da leggi incostituzionali. Grazie a tutti.